From Ilicauni Digital Studios What If Hollywood Blockbusters Were Italian TV Series La fumagalli Strauss S.P.A., leader nel campo dei lanciafiamme antisommossa Ma per il momento preferisce non fare un cazzo Max passa le giornate a bordo della sua Smart Interceptor Sfrecciando a 2000 sull'autostrada in compagnia di Gombi Un cucciolo di Dalmat ha pagato 8.000 euro con Pedigree Ma vedrai, era un'inculata Un giorno Max resta senza benzina Proprio quando aveva deciso di andare alla scoperta della potta Così chiede aiuto a Gianluigi, suo cugino Ma anche fratello per via degli incesti che ha usanza fare nelle famiglie da bene Gianluigi ha una Smart Helicopter Che gli consente di atterrare direttamente sugli aperitivi durante l'Happy Hour Ma anche Gianci è rimasto a secco E ai due non resta che andare a piangere da babbo Ma non è un buon momento per la fumagalli Strauss Stefano, leader sindacale Ha indetto uno sciopero dei dipendenti e organizzato un picchetto davanti ai cancelli della ditta E a lui si è unitù anche Pietro per gli amici Mai e Koski Anche lui, dipendente in casa di integrazione E attualmente capo del comitato Ambiente, Salute e Decoro Max non vuole essere messo in mezzo Vorrebbe solo battere cassa e smammarsela Non lo so, io voglio solo la benzina Ma c'è una complicazione Lo zio Mario, nano a rivista Amministratore della fumagalli Strauss Ha una pensata delle sue Proprio quando dirigenza e sindacato stanno per raggiungere un'intesa Provvede unilateralmente a un drastico taglio di personale Quei pezzenti dei lavoratori se la prendono a male Soprattutto Pietro La piazza si scalda Stefano dichiara lo sciopero generale E i fumagalli Strauss abbandonano il tavolo delle trattative Si accende lo scontro Deve addirittura intervenire la polizia per sedare gli animi 83 morti e 74 feriti secondo i manifestanti Qualche contuso per la questura A Max non resta che cercare la potta col binocolo I licaoni sono qui per voi Andava bene? Abbiamo finito? All right!